Commenta il fatto del giorno Paolo Boldrini, direttore della Gazzetta di Mantova. Oggi ho scelto di parlarvi della caduta del muro di Berlino. La caduta del muro di Berlino è una delle pagine più importanti per la storia dell'Europa, muro che era stato eretto nel 1961 in piena guerra fredda. La caduta del muro significa anche la fine della contrapposizione tra i blocchi atlantico e il blocco sovietico, nato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. È una giornata di grande festa per l'Europa, per la Germania e non solo. Di lì a un anno la Germania si riunificherà e non ci sarà più la contrapposizione tra Est e Ovest.